Ciao a tutti amici di TCG Television e bentrovati in questo nuovo video dove andremo a spacchettarci tre nuove buste di Pokémon Kart Game espansione Vapoli Accesi. Eccoci tornati, siamo pronti per aprire queste tre buste. Abbiamo stavolta un altro Mega Guard Royer Shiny, un nivel tal Turbo e uno Xerneas Turbo. Andrei per ordine e mi aprirei prima lo Xerneas. Così. Visto che la X viene prima della Y, mi sembra giusto. Allora, l'altra volta se non erro non c'era andata granché bene. Vediamo un po' stavolta se riusciamo a migliorarci. Due. Ok. Marip Fletchling Yanma Merrill Snizzle Pochebignè Incantato Lampent Howlusha Howlusha again. La Reverse è una comune di tipo fuoco ed è un po' onita. E la Rara è a sua volta di tipo fuoco ed è un infernape olografico. Mica male. Non l'avamo ancora visto. 130 punti vita, due attacchi. Il primo fuoco carica, due energie fuoco infligge 120 danni scartandogli le tutte. E il secondo ha due energie fuoco sempre infligge 200 danni a patto che abbiamo 10 energie fuoco nella pila degli scarti che poi dovremo rimischiare nel mazzo. Prima posta andata, farei, passerei vera allora. Via il codice. Tutto trick. Cluncher Shallows Rufflet Chimchar Deinu Speriamo di trovare qualche trainer. Oh, fossi l'unghia di Anurid. Perché non trovo mai Ninja Boy o Pokémon Ranger? Clang Finalmente abbiamo trovato Kling Clang e Kling. Finalmente abbiamo anche Clang. Poi Oh, carica speciale. Non male. Questa carta, secondo me, verrà abbastanza giocata almeno in uno o due copie. Rimischia le carte energie speciali dalla nostra pila degli scarti nel nostro mazzo. Tutti i mazzi o quasi che giocheranno carte energie doppie, penso utilizzeranno anche questa, perché una volta andate negli scarti le energie doppie sono difficili, anzi impossibili da recuperare. La reverse di tipo Psico è una comune, Driflum, ho già sperato in un'Upa. E attenzione la rara di tipo acciaio. Ed è una 67 di 114 di tipo acciaio. Abbiamo Stilix ed infatti è uno Stilix X. Bene, ottima carta, insomma, non tanto per il gioco quanto per la grafica che non è niente male per questo Stilix. E possiamo metterlo qui e andarci a sbustare l'ultima delle buste, che è quella di Mega Garda, poi. Sperando di trovare... Non so, Volcanion X Fulat, per esempio. Anche se... Quando parlo, va, alla fine non esce mai. A parte funzionato qualche volta con Shymin. E mi direte, non è roba da poco. Siamo pronti con la terza e ultima busta. Tangela, Krogank, Oshawott, Mermel, Ponita, Nidorino, che non avevamo ancora visto. Zveilus, che avevamo visto abbastanza. Sheldon, anche questo, visto a fiumi. La reverse è una rara di tipo fuoco. Ed è un altro Infernape, fantastico. E... Oh! Full Art, Full Art, Full Art! Pokémon Ranger! Speravo in un Platan, sinceramente. Però... Vabbè. Tre buste, una X, una Trainer Full Art e una Olo. Non male, dai. Poteva andare meglio, ma non possiamo lamentarci di certo di questi tre pacchetti. Bene, ragazzi. Per questo video è tutto. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Bye, bye! Ciao! Grazie a tutti.